Più del 22% della popolazione nel comune di Fano è soggetta a sostenere pesantemente l'aumento tariffario dovuto ai costi delle bollette dell'acqua, con una pensione media di circa 700 euro mensile, e quanto emerge da una statistica effettuata dall'area sindacale CISL Fano. L'ingente rincaro dei costi, secondo il sindacato, non è ammissibile che in base a una disposizione nazionale, i cittadini debbano sostenere un aumento delle bollette per un servizio a cui non si può rinunciare, incidendo pesantemente sui redditi medio-bassi. Secondo la CISL è necessario evitare qualsiasi tipo di aumento tariffario ed introdurre, anche con l'impegno dei sindaci e delle amministrazioni comunali, risorse certe e stabili per la riduzione dei costi. Chiediamo ad Aset due cose. La prima è di utilizzare risorse dal proprio bilancio per calmergliare le tariffe dell'acqua, quindi una sorta di intervento pubblico per venire incontro a questo aumento spropositato delle tariffe dell'acqua. Secondo, di investire in maniera stabile e strutturata una parte degli utili che Aset ha sulla riduzione stabile delle tariffe. Ci sono già dei bonus nazionali, c'è un bonus idrico per persone che hanno un'ISE sotto i 6.000 euro, però ovviamente chiediamo di introdurre una misura stabile territoriale. Diversi cittadini hanno lamentato l'aumento dei costi che hanno ritrovato in bolletta. Tutto sommato, mi sembra cara, anche perché è un bene di tutti. È un furto, perché non tengo un conto della persona che prende 490 euro al mese e mentre uno che magari sono in quattro in famiglia e prende quattro stipendi non paga meno. Questo è un furto grosso, il sociale non c'è. A lei quanto è ammontata se si può sapere la bolletta? 70. Ha giusto perché i 256 euro sono da pagare su sola, è giusto? Quelle? 256 euro pago io, sono da sola. Sono di acqua? Sono altissime, altissime. Infatti molte famiglie si stanno lamentando di questi aumenti. La bolletta dell'acqua è stata una sorpresa allucinante proprio, cioè abbiamo raddoppiato il prezzo, quindi non è una cosa accessibile a tutti ovviamente, non si può sostenere. Ci sono quelle famiglie che ovviamente non arrivano neanche a fine mese e quindi chiaramente ti trovi all'improvviso così, è una sorpresa brutta per tutti insomma. A lei quanto li ha montata la bolletta se si può sapere? Guardi sono 222,37, cioè noi normalmente paghiamo sulle 70, 80 euro massimo. È una cosa proprio che non, come si fa? Sono sola, vado a mangiare il giorno mio figlio, l'acqua non la consumo. Ci facciano anche capire diciamo perché tutto questo momento. Quindi più informazione. Un pochino di sì, facci capire il motivo e il perché.